Un grande clamore mediatico che ha acceso le luci della ribalta nazionale, una scomoda etichetta per il comune di Milazzo, per i dipendenti accusati di assenteismo nell'ambito dell'operazione libera uscita condotta dalla Guardia di Finanza, è il momento di preparare la difesa. Diversi legali incaricati. Il day after è quello dei commenti e delle indiscrezioni. Pare che gli indagati inizialmente fossero addirittura a 160, numero poi sceso a 75, dopo l'analisi da parte della Procura delle risultanze investigative prodotte dalle fiamme gialle. Magari non mancheranno tra i 75 indagati, 59 dei quali sottoposti a obbligo di firma, posizioni da chiarire che potrebbero ridimensionarsi. Sempre secondo indiscrezioni pare che a qualcuno vengano contestate assenze in orari, tra le 14.20 e le 15.15, in cui gli uffici dovrebbero essere chiusi e che alcune contestazioni riguarderebbero anche pochi minuti di assenza. Certamente gli interrogatori e le immagini filmate renderanno il quadro più definito sui controlli effettuati tra il 10 novembre e il 22 dicembre 2014. C'è chi non vede l'ora di presentarsi a difendersi e che affida al proprio profilo Facebook il suo pensiero. Il capo ufficio stampa del comune di Milazzo, Giovanni Petrungaro, ha fatto sapere di voler dimostrare prima possibile la sua estranetà ai fatti contestati. Nel suo caso, strisciare il badge servirebbe soltanto a certificare la presenza. Ciò perché il suo contratto non è quello relativo agli enti locali, ma quello giornalistico che vincola 36 ore settimanali senza fissare un quantum di ore giornaliere da espletare. L'impiegato dell'ufficio di ragioneria Rino Scattareggia invece è precisato sul suo profilo social che le contestazioni che gli sono state mosse relativamente a 9 ore 24 minuti e 57 secondi di uscita complessiva arbitraria non tengono in considerazione il ruolo di contabile svolto per l'organo straordinario di liquidazione, compito per il quale tratteneva tutti i rapporti economici con la società della commissione del distesto presso l'istituto bancario esterno al palazzo municipale, dove si recava a timbrare per servizio.